l'anniversario della rivoluzione bolshevica. Lenin, 91 anni fa, prendeva il palazzo d'inverno. Iniziava un lento, progressivo movimento a sinistra dell'umanità in tutto il mondo. Compagni e compagni, quest'anno si è vinto a Mosca e veniamo dalla vittoria di Obama a Washington. Il mondo va a sinistra, compagni e compagni. L'Italia ancora a destra, si tratta di riallineare l'Italia ai livelli mondiali, compagni e compagni.